Buongiorno, oggi è mercoledì 8 marzo, festa delle donne, auguri a tutte le donne che stanno guardando questa rassegna stampa che va in onda grazie alla collaborazione di Massimo Moro, cielo sereno su gran parte del territorio alto a Tesino, temperature minime e temperature massime in leggera risalita rispetto alla giornata di ieri, questa è la situazione, 6.30 questa mattina a Dobbiaco, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, l'Alto Adige scoppia la provetta in classe, tre studenti feriti in via Fago, uno ha una grave lesione all'occhio, l'Alto Adige storie di donne, quelle in prima linea e quelle nascoste, Bolzano schiaccia sassi, batte l'inze e vola in semifinali, ottime notizie per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, serie Abel, accoltellato in pieno centro al 9 di mattina, terrore in Galleria Europa a Bolzano, la cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, Bolzano perde Italia's Got Talent, teatro comunale e produttori non hanno trovato l'accordo, lo show di Bisio valeva un contratto da 60.000 euro, erano previsti 7 giorni di audizioni, Galateo dice il direttore si deve dimettere, l'università di Bolzano scala le classifiche a livello mondiale, l'università nella top 10 a livello internazionale, ricerca premiata, il nuovo rettore Lugli dice tutto questo è una grande motivazione, la cronaca lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomite nel grave episodio di sangue in pieno centro ieri a Bolzano, il successo dell'hockey club Bolzano nella serie Abel, 3-4-1 i risultati finali e poi la cronaca a cura del settimanale economico VQ, si parla di inflazione, l'aumento dei prezzi anche e soprattutto in provincia di Bolzano, cosa cambia per il bilancio di ogni famiglia? Il quotidiano tag è Zeitung, il ruolo delle donne a livello politico e non solo, lo spunto è dato ovviamente dall'8 marzo, una serie di contributi, una serie di interviste per evidenziare quali sono le luci ma soprattutto le ombre, il Corriere della Sera, la CIA usa le televisioni per spiare, Wikileaks dice, hacker americani a Francoforte, pubblicati documenti riservati dell'intelligence e sempre per la cronaca, il solo 24 ore, Fiat Chrysler apre a Volkswagen e punta su Pomigliano nello stabilimento Campano, i modelli Alfa via la produzione della Panda dal 2019, è tutto, io vi ricordo come sempre gli appuntamenti da non perdere in Alto Adige nei prossimi giorni, Forst Day Palamano a Merano l'11 di marzo, il 13 di marzo i Casta 2017, campionati scistici delle truppe alpine, il 25 di marzo Schlearn Games allo Snow Park dell'Alpe di Siusi, è tutto, vi ringrazio come sempre per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33. Grazie a tutti, grazie a tutti.